Nel fine settimana sul nord Italia affluirà aria da est in quota, mentre nei bassi strati avremo prevalenza di bora specie sul Triveneto. Per quanto riguarda la nostra regione, in generale per sabato nuvolosità variabile con più nubi al mattino e maggiori schiarite nel pomeriggio. Pomeriggio in cui le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi probabilmente in pianura, 14 o 15 sulla costa. Bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa, specie nel pomeriggio, 20 sostenuti anche in quota, oltre 1500 metri circa. Zero termico a 1500 metri. Per quanto riguarda giornata di domenica, cielo da poco nuvoloso a variabile, ci sarà spazio per schiarite anche ampie, forse maggiore nuvolosità sulle Alpi Giulie, mentre per quanto riguarda le carni che probabilmente avranno più sole. Per le temperature massime intorno ai 15 gradi su pianura e costa, soffierà Bora da moderata sostenuta in pianura, forte sulla costa con raffiche che a Trieste potrebbero toccare i 100 km all'ora. Venti sostenuti anche in quota, oltre 1500 metri, velocità di circa 50-60 km orari da es nord-est. Per la giornata di lunedì avremo cielo sereno sotto la regione con venti ancora moderati o sostenuti da nord-est di Bora al suolo.